Giornata di protesta del mondo agricolo a Sciacca Corteo su trattori e mezzi agricoli per le vie del centro abitato per contestare l'aumento dell'acqua per usi rigui, protesta che poi si è spostata a Menfi davanti alla sede del consorzio. Migliaia di litri di latte per strada, questa mattina protesta appoggioreale degli elevatori delle province di Agrigento, Trapani e Palermo, sull'asce di quanto da giorni stanno facendo i colleghi sardi, prezzo del latte troppo basso. Case Popolari di Ribera, ore di attesa per gli ex residenti che dopo sette anni sperano che in giornata l'impresa che sia giudicata ai lavori di demolizione e ricostruzione degli alloggi consegni finalmente il progetto definitivo. Il Comune di Montevago aumenta ancora la percentuale differenziata dopo aver ottenuto per il 2017 il premio di 120.000 euro, si prepara a gestire il servizio di raccolta e smaltimento insieme al Comune di Santa Margherita Belice. Sciacca Comune Plastic Free, dopo l'ordinanza che impone limiti nell'uso della plastica già a partire dal prossimo mese di aprile, arriva anche l'adesione al progetto di sensibilizzazione nelle scuole dell'associazione Marevivo. Sport, calcio, delicata trasferta a Piana degli Albanesi per l'Unitas Sciacca sostiene la squadra un nutrito gruppo di tifosi. Gara salvezza domani per il Real Menfi. Un cordiale benvenuto, bentrovati su Telemonte Cronio per il consueto appuntamento con l'informazione. Giornata di protesta del mondo agricolo. In mattinata gli agricoltori del nostro comprensorio hanno dato vita ad un corteo su trattori e mezzi di lavoro per protestare contro il caro acqua per uso in rigui. Siamo andati anche noi. Vediamo. Siete stati costretti a protestare con un corteo? Ma è normale, è normale perché ormai siamo con l'acqua al collo, quindi di acqua si parla e quindi la situazione è questa. Ma è vero che ci sono voi o colleghi vostri che hanno dovuto rinunciare alle coltivazioni per costo troppo alto dell'acqua? Ma certo, è normale perché ormai i costi superano i ricavi, perché in agricoltura i ricavi sono quelli che sono e quindi l'acqua così onerosa, così cara non ci fa lavorare. Un corteo di protesta. Agricoltori a bordo di trattori e altri mezzi da lavoro per dire basta alle incertezze sul costo dell'acqua per uso in rigui a partire da una quota fissa schizzata in 5 anni del 325%. Stiamo partendo oggi in una battaglia forte, democratica, argomentata, vogliamo dei confronti. Questa settimana entrante il governo ci deve ricevere per tirare fuori quali sono le nostre ragioni, in quanto non si può chiedere un aumento dei costi dell'acqua e della bonifica in generale del 325% o è ritratata di 4-5 anni per cui veramente dopo uno che va a comprare un chilo di pane poi l'indomani ci ritorna o dopo 8 giorni per comprare un altro chilo e quello dice no guarda non è più un euro per dire è 5 euro, quindi di questo noi stiamo parlando. A lei risulta che ci siano colleghi suoi, lei lo ha fatto, che hanno rinunciato alle coltivazioni perché l'acqua è troppo cara? Sì qualcuno, sì, ortaggi, proprio questo. Sì sì è verissimo questo e si rinuncerà ancora, più avanti andiamo in questo modo fernerà che si dimezzeranno completamente le culture. La manifestazione di oggi è stata promossa da tutte le associazioni compreso il cometato spontaneo ad esclusione di Coldiretti, cometato spontaneo il cui rappresentante Nino Ciaccio oggi non ha nascosto la propria delusione per una partecipazione all'iniziativa che si aspettava ben più nutrita. Anche se c'è tanti agricoltori però non sono contento perché molti sono rimasti a casa, non so perché, perché non sentono il problema. Questa è la cosa che mi fa veramente nervosire. Quindi non c'è stata una risposta soddisfacente al vostro appello? La risposta c'è stata perché ci sono un po' di mezzi, un po' di agricoltori, ma non è quello che aspettavamo, ci aspettavamo molto di più. Il corteo dopo aver attraversato il centro di Sciacca ha concluso la sua marcia a Menfi al consorzio di Bonifica. Il peso che devono sopportare le imprese agricole, le aziende agricole è esagerato, il rapporto anche a quello che sono i prezzi di mercato. Noi ci auguriamo che la regione capisca questo grande momento di difficoltà e soprattutto che adottino i provvedimenti adeguati nelle manovre finanziarie. La regione per la banda musicale ha trovato i soldi, sono andati sulle strisce a notizie, l'abbiamo visto tutti. Ma per noi no, praticamente ci cerca, tipo andiamo a mangiare una pizza, dopo 8 anni ci richiedono altri 5 euro, ma ci stiamo scherzando. Cerchiamo di espritare il nostro diritto se è possibile, non siamo sicuri se ci riusciamo, ma questo dovrebbe essere un punto di partenza per il consorzio perché non si può andare avanti con questa maniera. Il consorzio che è ancora commissariato peraltro, dovreste essere voi a gestirlo, diciamo voi con i vostri rappresentanti? Il punto cruciale è proprio questo, però abbiamo bisogno della politica di tutti per cercare di aiutarci a spostare questa situazione, di questi commissari che si susseguono uno con l'altro, dando sempre più incariche, sperperando sempre di più le risorse che abbiamo. E' sempre questa mattina nelle campagne di Poggio Reale l'annunciata manifestazione di protesta promossa da un gruppo di allevatori provenienti dalle province di Agrigento, Palermo e Trapani. Una manifestazione organizzata sulla scia della clamorosa protesta dei pastori sardi che continuano a sversare migliaia e migliaia di litri di latte per strada contro il prezzo considerato eccessivamente basso del latte da loro prodotto. C'eravamo anche noi. Migliaia di litri di latte sversati in campagna allo svincolo di Poggio Reale lungo la 624 Palermo Sciacca. Anche agli elevatori siciliani dunque hanno protestato contro il prezzo troppo basso accordato dagli acquirenti del loro prodotto. Non si può più svolvivere. Quindi condividete le ragioni della protesta dei vostri colleghi sardi? A pieno per cento, cento per cento. Le spese sono per tre volte della produzione che fanno l'armale. Siamo tutte quelle che compriamo noi e dobbiamo comprare tutto quello che costa. Tutte quelle che dobbiamo vendere noi le dobbiamo dare a come ce lo vogliono pagare. Ma che cosa pensate di poter ottenere? Il prezzo giusto. Se ci riusciamo... Il prezzo giusto quale sarebbe? Almeno un euro o più IVA. Il vostro latte che fine fa? Non lo so. Hai fatto il pecorino romano? Dicono di sì, però poi... Lo pagano troppo poco? Sì, sì. A 65 centesimo compreso io. Non si può fare questa vita. Non possiamo oggi noi comprare in euro e vendere in lire. Poi giocano sulla nostra IVA perché tutto quello che acquistiamo noi lo compriamo più IVA. Quello che vendiamo, compreso IVA, giocano pure su queste cose. Un momento quello di stamattina che vuole rappresentare una sorta di grido d'allarme di un comparto che rischia la perdita di migliaia di posti di lavoro. Sul fatto del prezzo, come pensate di riuscire a vincere questa battaglia? Il prezzo è il mercato che lo stabilisce. E per cui voi vi lamentate che vi danno troppo poco? Però quando c'è il trucco, se io devo competere, a correre tutti loro, ci faccio il bello alla siciliana, lei è senza peso sopra le spalle, io ho un peso di 50 kg sopra le spalle. Come faccio a vincere lei in questa corsa? Può essere anche un problema di individualismo, società, ditte che sono frastagliate, magari se vi uniste faceste un consorzio? Ma io penso che in Sicilia i consorsi non funzionano, per come storicamente sempre sono andati, diciamo, male. Quindi il discorso è che il latte a livello nazionale non è ritribuito bene e dipende tutto da un sistema. È dovuto anche ai prodotti che vengono da fuori, quindi non valorizzando quelli nostri. Quindi l'Unione Europea in questo senso per voi è un passo indietro? Sì, l'Unione Europea si dovrebbe aprire gli occhi e capire che in Sicilia, come nel resto dell'Italia, gli allevatori, l'agricoltura e il comparto agrozootecnico stanno morendo. Chi comanda il prezzo del latte è il pecorino romano, quindi se abbassa il pecorino romano ci abbassano sempre il latte pure a noi. Ma tra le rivendicazioni degli allevatori non c'è soltanto quella che riguarda il prezzo del latte, anche se naturalmente l'iniziativa simbolica di questa mattina è concentrata soprattutto su quell'aspetto. Gli allevatori lamentano infatti la difficoltà di poter piazzare ad un prezzo congruo anche le carni e soprattutto fanno notare che l'agnello viene venduto da appena 2,50 euro al chilo. Deve essere una filiera che ci porti e ci dia la possibilità di andare avanti. Il prezzo dell'agnello quello corretto quale sarebbe? Ma il prezzo corretto è almeno 5 euro, almeno. Ce lo stanno pagando a 2,50 euro. Stimare quanti posti di lavoro sono a rischio con questa situazione che avete? Tutti. Anche quelli dei titolari? Tutti. Il latte è versato per strada dagli elevatori siciliani, così come hanno fatto i loro colleghi sardi. Il segno forte è tangibile di un clima insostenibile per chi lavora nel settore primario e in particolare nell'allevamento ovi-caprino. Lo dichiara il deputato regionale Michele Catanzaro che ha predisposto una interrogazione parlamentare per indagare le ragioni dell'assenza di forme di controllo sui fattori di produzione e sulla remunerazione del latte. Circostanze queste che determinano il crollo dei prezzi e quindi la drammatica situazione dei nostri pastori anello debole della filiera. È necessario conoscere, aggiunge Catanzaro, quali sono gli interventi che questo governo intende predisporre al fine di tutelare gli elevatori anche tramite meccanismi sanzionatori in grado di contrastare il depreciamento della preziosa materia prima. E accanto alla mobilitazione di agricoltori del compensorio di Sciacca contro l'aumento dei costi dell'acqua per usi irrigui si è avviata anche la battaglia legale. Infatti alcuni agricoltori di Menfi hanno deciso di impugnare le cartelle esattoriali notificate da riscossione Sicilia per conto del consorzio di bonifica Grigento 3. Si sono affidati all'avvocato Santo Botta che ha già curato i primi ricorsi. Le cartelle relative ai contributi consortili notificate agli agricoltori egrigentini sostiene l'avvocato Botta risultano affette da vizi di illegittimità che la giurisprudenza di merito e quella di legittimità ha più volte rilevato in passato. Per proporre ricorso c'è tempo fino ai primi di marzo. Sulla crisi del mondo agricolo interviene oggi il consigliere comunale Silvio Caracappa. Benvenga, dice l'ex assessore all'agricoltura del comune di Sciacca, la protesta di oggi degli agricoltori e delle organizzazioni sindacali. Ma occorre subito l'autoconvocazione urgente dei sindaci a Palermo dove il governo regionale è alle prese con la manovra finanziaria all'interno della quale vanno trovate le risorse necessarie. Sentiamo Caracappa da noi intervistato. È a Palermo che si deve urgentemente spostare la protesta del mondo agricolo perché a Palermo risiedono le vere responsabilità della crisi in cui è sprofondato il settore. A sollecitare i sindaci di tutti i comuni che fanno parte del comprensore irriguo ad autoconvocarsi presso la sede del governo regionale è il consigliere comunale Silvio Caracappa. Benvenga la protesta di oggi ed è sicuramente apprezzabile lo sforzo che stanno facendo le organizzazioni sindacali unitamente a tutti gli agricoltori del comprensorio rispetto ad una vicenda annosa, perché non è una vicenda che interessa solamente gli ultimi giorni, ma una vicenda ormai che risale al 2013, quindi sono più di sei anni, una vicenda sulla quale purtroppo non sono mai arrivate le giuste risposte. Motivo per il quale, a mio modesto parere, questa protesta deve essere fatta urgentemente, avanzata urgentemente presso la sede regionale a Palermo, dove stanno le concrete e vere responsabilità e quindi occorre spostarsi lì per capire un attimo questo governo attuale, il governo del presidente Musumeci, che intenzione ha rispetto appunto all'organizzazione generale dei consorsi di bonifica. Per l'ex assessore all'agricoltura del comune di Sciacca non c'è tempo da perdere. Occorre promuovere subito la mobilitazione a Palermo, visto che il governo regionale in queste ore è alle prese con la manovra finanziaria, per incalzare presidente della regione, giunta e deputazione ad individuare le risorse necessarie per far fronte ai tanti debiti accumulati negli anni dai consorsi di bonifica, che adesso stanno letteralmente spremendo gli agricoltori. Chi conosce bene la vicenda sa che i milioni di euro non si contano più. E a mio modesto parere c'è qualcosa che non va già nella riforma generale che ha previsto i consorsi. Secondo me oggi questi consorsi sono dei veri carrozzoni che hanno generato negli anni solamente debiti contro una regione e quindi contro i cittadini. Oggi cosa fa il commissario del consorzio? Alla luce delle mancate risposte da parte del governo regionale, abbatte il tutto nei confronti dell'agricoltore, chiedendo le risposte economiche proprio ad un agricoltore che si è visto abbandonato negli anni. Allora cosa dico io? Siccome proprio in queste ore si sta ragionando sulla finanziaria, noi dobbiamo urgentemente autoconvocarci a Palermo, pressare insistentemente tutti assieme, forze politiche, organizzazioni sindacali, agricoltori, recarci presso la sede regionale e chiedere insistentemente un intervento concreto e risolutorio rispetto alla questione. Dopodiché io dico intanto superiamo la vicenda dei debiti. Dopodiché occorre urgentemente che il governo seriamente si metta a lavorare sulla prospettiva dei consorsi, perché se questo è un ente che produce debiti e quindi oggi non mi dà una prospettiva futura, è ovvio che occorre un'inversione di tendenza, rivedere qualcosa e ripartire da zero. Su, attenzione, un ente che deve dare delle risposte che il comparto agricolo si merita. Se si vuole le risorse si trovano, è solo una questione di volontà politica, conclude Silvio Caracappa. I problemi economici ci sono, però la storia insegna pure che quando si vuole un problema si risolve, è solo questione di volontà nella risoluzione del problema. Siccome sono state individuate delle somme per tanti capitoli, su cui ho forti dubbi, si parlava di un'orchestra all'interno dell'Assemblea regionale, si parlava di tante altre spese folli, allora io dico, se vogliamo davvero bene agli agricoltori, diamo questa risposta e forse il mondo agricolo tornerà ad avere un po' di rispetto verso la politica. La cronaca giudiziaria, il sacenze Emanuele Gambino di 33 anni è stato condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione nell'ambito del processo scaturito dall'operazione antidroga denominata Street Food. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Sciac, Antonino Cucinella, a fronte di una richiesta di condanna a quattro mesi di reclusione che era stata chiesta invece dal pubblico ministero. L'operazione Street Food era stata messa a segno dai carabinieri della compagnia di Sciacca e dai colleghi della stazione di Menfi aveva portato all'arresto di diversi presunti corrieri della droga che andavano costantemente a rifornirsi a Palermo per poi cedere la sostanza stupefacente a pusher locali. La conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado è la richiesta del Procuratore Generale al processo d'appello che vede imputati i sacenzi Lino Conticello e Giuseppe Marciante. Sentiamo. È attesa per l'8 marzo prossimo la sentenza della Corte d'Appello di Palermo nei confronti dei sacenzi Lino Conticello di 48 anni e Giuseppe Marciante di 38 anni accusati di violenza sessuale nei confronti di un minore. In primo grado erano stati condannati rispettivamente a 6 anni e 6 mesi di reclusione e 5 anni e 6 mesi dal Tribunale di Sciacca che aveva anche disposto il risarcimento del danno nei confronti del minore con una provvisionale immediatamente esecutiva di 20.000 euro. Il giovane e la madre si erano costituiti parte civile assistiti dall'Avvocato Gaudio. In appello il Procuratore Generale ha chiesto per entrambi la conferma del giudizio emesso in primo grado. La vicenda venne fuori nell'ambito di una inchiesta nel 2016 condotta dai carabinieri della Compagnia di Sciacca e coordinata dalla Procura della Repubblica che portò anche alla scoperta di un giro di spaccio di sostanze stupefacenti a Shish e Mariuana nel quartiere di San Michele. Marciante sui fatti di droga ha patteggiato la pena mentre ha sostenuto di avere soltanto messo in contatto il minore all'epoca 17enne con Contino ma solo per una questione di lavoro. Anche Lino Conticello ha respinto l'accusa di violenza sessuale ammettendo di avere solo ospitato per una notte il minore nella sua casa. Il legale di Marciante, l'Avvocato Forte, ha già discusso un appello e chiesto la soluzione del proprio assistito. L'8 marzo è previsto l'intervento dell'Avvocato di Gioia per Conticello poi i giudici si ritireranno in Camera di Consiglio per emettere la sentenza. Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Antonino Cucinella nuovamente condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia questa volta nei confronti della figlia un saccenze già condannato in precedenza per maltrattamenti nei confronti della moglie. Per i maltrattamenti nei confronti della figlia all'epoca dei fatti minorenne costituita si parte civile assistita e difesa dall'Avvocato Rosaria Capraro l'uomo è stato condannato a due anni di reclusione al risarcimento di 2.000 euro nonché al pagamento delle spesse processuali. È stata confermata alla Corte d'Appello di Palermo la condanna a otto mesi per abuso d'ufficio nei confronti dell'ex direttore generale dell'ASPE di Agrigento, Salvatore Olivieri. La vicenda ha avuto come protagonista il medico saccenze Pasquale Gallerano. La Corte ha rigettato l'appello presentato dalla difesa di Olivieri dopo che il Tribunale di Agrigento nel luglio del 2017 lo aveva condannato per avere intenzionalmente escluso il dottore Gallerano dalla carica di direttore della struttura di medicina trasfusionale reparto di cui già era a capo come facente funzioni. Il medico saccenze all'epoca dei fatti che risalgono al 2011 aveva presentato ricorso contro la sua esclusione sostenendo di essere stato escluso in modo ingiusto. Lasciamo la cronaca giudiziaria a case popolari di Ribera. Oggi è il giorno in cui l'impresa facente parte del consorzio che si è giudicato l'appalto incaricata della progettazione dovrebbe consegnare il progetto definitivo di demolizione e ricostruzione degli alloggi popolari per poi poter dar via ai lavori. Sono ore di attesa per gli ex residenti che attendono da sette anni e che sperano che entro oggi avvenga davvero la consegna del progetto. Sentiamo. Sono ore di trepidante attesa per gli ex residenti degli alloggi popolari di Largo dei Martiri di Via Fania Ribera. Dovrebbe avvenire oggi la consegna del progetto definitivo da parte dell'impresa incaricata di predisporre il progetto esecutivo dopo la rinuncia nei mesi scorsi della ditta precedentemente chiamata a formalizzare tale adempimento. Tutto ciò ha fatto perdere altro tempo. Poi a fine gennaio l'annuncio da parte del sindaco Carmelo Pace dice che la consegna del progetto esecutivo sarebbe avvenuta il 15 febbraio. Allo stato attuale non abbiamo ancora alcuna notizia di presentazione del progetto. Speriamo sia davvero la volta buona, dichiara oggi al nostro telegiornale Maria Sarullo a nome di tutti gli ex residenti. Lo stiamo vivendo in ansia perché fino a ora in questo momento non abbiamo nessuna risposta. Speriamo in giornata di averlo e almeno ci tranquillizziamo un pochino. Dopo sette anni spero che sia la volta buona perché sette anni sono passati con rammari, con delusione e con tutto. Visto che i tempi sono passati tanti anni e poi siamo quasi in primavera che la ditta diceva che voleva iniziare in primavera speriamo che sia la volta buona e entro stasera avere delle notizie che è stato approvato il progetto, è stato presentato e quindi che ci diano una buona speranza perché guarda se finisce anche questa volta non so più cosa fare non sappiamo più cosa fare. Una vicenda assurda che si trascina da sette lunghissimi anni da quando cioè nel febbraio del 2012 le famiglie furono costrette a lasciare le loro abitazioni ma adesso questi alloggi non ancora demoliti e dove spesso vivono numerosi extracomunitari costituiscono un grave problema anche per la sicurezza dei cittadini. Il pericolo c'è perché oltre sono abitati da migliaia di extracomunitari è anche il pericolo per tutta la città, per la nostra sicurezza e perché ancora le case stanno lì, capito? Quindi non ci rendiamo conto più il perché ci hanno fatto uscire sette anni che sono all'impiedi ma nel frattempo è iniziato il degrado e la mal sicurezza anche di tutto il paese perché sono abitati da migliaia e migliaia di extracomunitari. Montevago continua a fare passi avanti sul fronte della differenziata il 2018 si è concluso con un ulteriore incremento delle percentuali precedenti e si è arrivati al 70% di raccolta differenziata Montevago è fra i 31 comuni siciliani che riceveranno un contributo regionale per l'alta percentuale di raccolta differenziata nel 2017 in particolare per aver superato il 65% previsto dalla legge che ha consentito, evidenzia il sindaco Margherita La Roccaruvolo di ridurre i costi in bolletta di circa il 20% nonostante le difficoltà legate in generale alla gestione dei rifiuti in Sicilia il comune belicino proporzionalmente al numero degli abitanti riceverà fondi per 120 mila euro che saranno reinvestiti in servizi per i cittadini intanto si guarda ad un nuovo modello di gestione dei rifiuti e la giunta comunale ha infatti approvato lo schema della società denominata Samo Ambiente SRL tra i comuni di Montevago e Santa Margherita Belice per l'affidamento in regime di house providing gestione diretta a mezzo di società costituita da enti pubblici per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati Elezioni amministrative a Sant'Elisabetta la ricandidatura del sindaco Mimmo Guelli una bella sfida, un grande appuntamento per la comunità interessata negli ultimi anni da un forte piano di cambiamenti e innovazioni sottolineano Giovanna Iacono, segretario del PD locale e Liborio Gazziano, presidente del Consiglio Comunale nei numerosi recenti incontri bilaterali è emersa la comune volontà di intraprendere quanto prima un percorso partecipativo che porta al coinvolgimento di un sempre più cospicuo numero di giovani e di persone rappresentative per la stesura di un programma serio e realizzabile per meglio guardare al futuro con ascolto e maggiore fiducia Nuovi manager e nuova rete ospedaliera il parlamentare agrigentino Carmelo Pullara ha chiesto al presidente della commissione sanità la convocazione dei nuovi vertici delle aziende sanitarie provinciali per discutere della gestione del nuovo assetto organizzativo la nomina dei nuovi manager e la nuova rete ospedaliera sostiene Pullara comportano delle inevitabili novità per tutto il comparto della sanità e con l'apertura dei nuovi reparti aumenterà l'esigenza di personale Il comune di Sciacca aderisce al progetto dell'associazione ambientalista Marevivo per sensibilizzare gli studenti a non utilizzare la plastica L'iniziativa fa seguito all'ordinanza che porterà Sciacca ad essere un comune plastic free Sentiamo Dopo l'ordinanza emessa nei giorni scorsi per Sciacca plastic free il comune ha anche aderito alla campagna di sensibilizzazione nelle scuole lanciata da Marevivo con l'hashtag Stop Single Use Plastic C'è dunque il patrocinio del comune di Sciacca l'iniziativa dell'associazione ambientalista per sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sul problema dell'inquinamento da plastica è divenuto un'emergenza globale Per far fronte a danni reversibili, dice Marevivo nell'illustrare contenuti della campagna abbiamo pochissimo tempo e dobbiamo agire subito Secondo i dati dell'UNEP, ogni minuto nel mondo vengono acquistate un milione di bottiglie in plastica e metà della plastica totale che viene prodotta è utilizzata soltanto una volta per poi essere gettata via Ogni anno oltre 8 milioni di tonnellate di plastica finiscono in mare Oggi si produce 20 volte più plastica che negli anni 70 di cui un terzo per gli imballaggi e se non si metterà freno alla situazione entro il 2050 la massa di plastica negli oceani supererà in peso quella di tutti i pesci mentre il 99% degli uccelli marini avrà ingoiato quantità più o meno elevate di plastiche Le istituzioni scolastiche svolgono una funzione importante nella formazione ed educazione dei ragazzi e possono avere un ruolo centrale nel sensibilizzare le nuove generazioni Con la campagna Stop Single Use Plastic si chiede alle scuole di introdurre il divieto dell'impiego di prodotti usa e getta nelle classi, nei servizi e negli uffici della struttura Bastano piccoli cambiamenti, evidenzia Marevivo, per liberare il pianeta dalla plastica come ad esempio ridurre l'uso di bottiglie di plastica incendivando tra gli studenti l'utilizzo delle borracce limitare la distribuzione di prodotti con imballaggi, merendine, snack, succhi di frutta preferire l'acqua del rubinetto ai distributori di bevande in bottiglia o in alternativa appositi erogatori d'acqua non usare stoviglie in plastica monouso come piatti, bicchieri, posate e cannucce comportamenti che saranno sollecitati anche agli studenti saccensi in vista dell'adesione del comune alla campagna di Marevivo ma soprattutto in considerazione dell'ordinanza firmata la scorsa settimana nella quale si legge che a partire dal 1 aprile 2019 gli esercenti, le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande non potranno distribuire ai clienti sacchetti da sporto monouso in materiale non biodegradabile e che è consentito soltanto al fino 31 marzo l'utilizzo delle eventuali scorte giacenti nei propri magazzini a partire invece dal 1 gennaio 2020 tutti i titolari che esercitano le attività della ristorazione gli esercizi di generi alimentari e in ogni centro vendita di stoviglie per alimentari dovranno esercitare agli acquirenti esclusivamente la vendita, la distribuzione, l'utilizzo e il consumo di materiale monouso del tipo biodegradabile o compostabile Progetto Servizio Civico a Montevago le richieste andranno presentate entro il 22 febbraio si tratta di un beneficio da 350 euro per un mese riconosciuto a nuclei familiari svantaggiati per prevenire e arginare situazioni di bisogni e disagio sociale per ottenerlo uno dei componenti del nucleo familiare dovrà svolgere una prestazione volontaria di servizio civico in favore della comunità il progetto è rivolto anche agli ultra sessantenni si avvia a conclusione la settimana dello studente organizzata dagli allievi del liceo classico Fazzello e che li ha visti impegnati in varie attività programmate ed organizzate dal comitato studentesco laboratorio di arte, lettura, musica, teatro, giornalismo e incontri con vari esperti del territorio hanno coinvolto tutti gli studenti rendendo questa settimana un momento efficace per la crescita e la formazione per ognuno di loro domani a parte dalle 9.30 si parlerà di malattie sessualmente trasmissibili con gli interventi dei medici Michele Barbera e Paolo Ferrara successivamente si discuterà di abuso di potere nel caso Cucchi con gli avvocati Carmela Bacino e Giovanna Maria Capraro il comune di Sciacca ha organizzato una giornata della trasparenza per il 19 febbraio con inizio alle ore 10 nella sala Blasco del palazzo municipale sarà un momento di conoscenza, di approfondimento e di confronto sulle buone pratiche nella pubblica amministrazione e saranno illustrate le iniziative messe nato dal comune di Sciacca in materia di trasparenza e anticorruzione adesso vediamo quale libro ci consiglia oggi la Mondadori da quasi 30 anni la famiglia di Sierra coltiva alberi di Natale in un grande vivaio dell'Oregon e ogni inverno si trasferisce per un mese in California per venderli Sierra vive perciò due vite una in Oregon e l'altra in California ma solo per il periodo natalizio finché si trova lì si è ripromessa di non legarsi a nessun ragazzo perché sarebbe doloroso poi dopo solo un mese doverlo lasciare ma quando incontra Caleb tutto cambia certo da quel che si dice in giro non è proprio il fidanzato ideale pare infatti che anni prima abbia commesso un errore enorme del quale sta continuando a pagare le conseguenze fatte di ostilità, pregiudizio e isolamento ma a Sierra tutto questo non interessa anche se migliaia di pensieri le ronzano in testa minacciando di distoglierla dal momento magico che sta vivendo forse vale la pena di chiudere gli occhi lasciarsi andare e mandare al diavolo la logica dopo tutto la logica non sa quello che desideri o quello che conta alla fine è l'amore vero, puro, necessario come il loro L'istante perfetto di J. Asher Edito Mondadori Siamo allo sport al calcio delicata trasferta a Piana degli Albanesi per l'Unitas Shack di Bonsignore e Miraglia i neroverdi saranno accompagnati da un nutrito gruppo di Ultras e tifosi data l'importanza della partita mister Vincenzo Piazza conta di recuperare qualcuno tra gli otto infortunati assenti domenica scorsa nell'anticipo del sabato incontro casalingo per il Real Memphis che si gioca molte delle sue chance salvezza ospitando il Re Suttana San Lorenzo sentiamo Sarà il signor Ignazio Pennino di Palermo a dirigere il match di domenica tra il San Giorgio Piana e l'Unitas Shack Calcio per l'esperto arbitro palermitano si tratta della seconda direzione dei neroverdi stagionale in questa stagione infatti ha già arbitrato il derby casalingo contro il Real Memphis la trasferta a Piana degli Albanesi è molto difficile ed attesa specie dagli Ultras della Nuova Guardia che hanno invitato tutti gli appassionati a seguire la squadra nel palermitano con uno striscione nei pressi dello stazzone il match dei seccensi è previsto domenica pomeriggio alle ore 15.30 presso lo stadio comunale Licauli i neroverdi potrebbero avere il vantaggio di conoscere già il risultato del Cinisi che giocherà sabato pomeriggio a Mazzara del Vallo nell'anticipo due trasferte complicate per le prime due della classe che si giocheranno la vittoria finale del campionato di prima categoria fino alla fine sulla carta è la mazzarese quella ad avere più bisogno di punti posto che si sta giocando la salvezza in lotta con il Real Memphis per evitare play-out il San Giorgio Piana invece già battuto dallo Sciacca all'andata per 3-0 veleggia a centro classifica in posizione tranquilla pur giocando giustamente al massimo ogni partita rispetto all'incontro di sette giorni fa contro il Colomba Bianca Palermo mister Vincenzo Piazza conta di recuperare qualcuno degli infortunati tra Libassi, Labella, Sant'Angelo, Gaudio, Interrante, Blo e Piazza con Galluzzo che era pure a mezzo servizio una trasferta che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale in vista della vittoria del torneo nella quinta giornata di ritorno del Gironea anticipo del sabato anche per il Real Menfi che al comunale ospita il Resuttana San Lorenzo squadra in posizione tranquilla di classifica per i Belicini guidati da mister Vitualesi si tratta della seconda partita in casa consecutiva sono d'obbligo i tre punti per sperare di agganciare ancora la quota salvezza rappresentata ad oggi dai 17 punti della Mazzarese è tutto, ci fermiamo qui grazie per essere stati in nostra compagnia appuntamento come sempre alle prossime edizioni arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti